Buonasera e benvenuti a una nuova puntata di Nessun Dorma. Questa sera torniamo a parlare di alimentazione. Settimana scorsa abbiamo affrontato il dibattito sull'allarme dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sul rapporto tra l'insorgenza di alcune tipologie di tumore e il consumo massiccio di carni rosse lavorate. Questa settimana torniamo a parlare di alimentazione, come dicevamo, ma in una chiave più ampia. Cercheremo anche di parlare di stile di vita, cercheremo di capire cosa è opportuno che tegnate in frigo e cosa è opportuno invece che manchi dalla vostra dispensa. Ma ancora cercheremo di capire qual è uno stile di vita sano, ma anche compatibile con i ritmi frenetici della vita di oggi. Quali sono le abitudini da abbandonare e quali invece possiamo e dobbiamo anzi inserire nella routine quotidiana o settimanale. Quindi parleremo anche di sport. In poche parole cercheremo di fornirvi, i nostri esperti cercheranno di fornirvi, una bussola per vivere, se non bene, a tutti gli effetti, meglio sicuramente di come magari facciamo presi dagli impegni dello stress quotidiano e della vita, diciamo, ordinaria. Dicevamo, sono i nostri ospiti che vi daranno questa bussola. Vado subito a presentarvi il primo, il dottore Marco Larghi, che è responsabile del servizio igiene alimentare e nutrizione dell'Asda di Comune. Buonasera, a lei dottor Larghi chiedo, com'è cambiata l'attenzione non solo degli enti pubblici, ma anche dei cittadini sul capitolo del benessere? Negli anni sta cambiando molto, l'alimentazione, la nutrizione sta diventando una priorità per alcune famiglie, altre invece continuano a mangiare come magari vent'anni fa, ma sono sempre più numerose le persone che cambiano le proprie abitudini alimentari e cercano magari di migliorarle, non sempre riuscendoci. Sì, in parte è vero quello che ha detto, nel senso che l'amministrazione pubblica sono 30 anni che dice certe cose e dà certi consigli, però effettivamente la gente è poco che si sta rendendo conto, anche perché è aiutata dai mass media, da tutte queste polemiche, lei citava la storia della carne. Di cui magari avremmo modo di parlare ancora. Però purtroppo i dati che noi abbiamo, perché noi misuriamo poi gli stati di benessere della popolazione, non ci confortano, cioè la gente sta cercando di capire e di migliorare i propri stili di vita. Quindi è un processo lungo? È un processo lungo e finora non ci è riuscito, anche perché da una parte cerca di migliorare, ma dall'altra i fenomeni che impediscono questa cosa stanno aumentando. Sto parlando per esempio della sedentarietà, che è in aumento perché il lavoro cambia e perché il commercio cambia, per cui se da una parte c'è maggiore attenzione della gente, dall'altra c'è più difficoltà. Faccio un esempio, se fino a 20 anni fa per acquistare un articolo dovevo per forza andare in un negozio, oggi il poterlo fare con un click è una comodità, ma non mi fa fare magari quei 500 metri a piedi, o quel chilometro a piedi che una volta ero costretto a fare, quindi la sedentarietà passa anche dall'evoluzione dei costumi. Sicuramente, perché prima si pensava che gli stati di obesità e di sovrappeso dipendessero solo e esclusivamente dall'alimentazione, invece ultimamente la percentuale della sedentarietà è diventata veramente fondamentale in un rapporto nello stile di vita. Oltre ad altri stili di vita, di cui non parliamo, però i due cardini per stare in benessere e buona salute sono l'attività fisica e il mangiare bene. E questi contano io direi per il 50% tutte e due. Il restante 50% all'alimentazione possiamo dire? Sì, sì, direi di sì, 50 e 50. E quindi sul restante 50% altrettanto importante e chiamo, anzi accolgo tra gli ospiti, la dottoressa Francesca Noli, biologo nutrizionista. Quindi toccherò a parlare di questo restante 50% che in quanto 50% è fondamentale. La consapevolezza sull'alimentazione e sulla nutrizione sta cambiando oppure è un processo lento come per altri indicatori dell'ostile di vita, come suggeriva il dottor Larghi? La consapevolezza a che punto è nelle nostre zone? Beh, sicuramente oggigiorno le persone hanno più possibilità di essere informati. Il problema forse oggigiorno è quello che c'è troppa informazione, o meglio, c'è tanta informazione e manca ogni tanto la capacità di filtrare queste informazioni. Se uno va sul web trova di tutto, trova tutto e il contrario di tutto, anche sull'alimentazione. Ecco, proprio questo volevo poi analizzare, perché immagino che ci siano molti miti da sfattare anche sull'alimentazione, che trovano terreno fertile sul web. Certamente, poi chiaramente noi nutrizionisti ci rifacciamo a quelle che sono le linee guida a livello nazionale, europeo e internazionale, ma le persone trovano magari appunto sui siti qualsiasi tipo di orientamento, per cui a volte arrivano da me e sono veramente disorientati, dicono non so più che cosa mangiare, perché ho letto di qui, ho letto di là, sono andato sul sito, addirittura a volte l'andare sui siti crea veramente ansia e poi innesca veramente un processo senza ritorno a volte, perché poi si somatizza, si va ancora sul web. Poi si rischia di diventare ipocondriaci, perché poi se cerchiamo sul web siamo tutti malati. Sì, per esempio ho avuto un caso proprio recente di una persona che aveva avuto dei problemi familiari, ha cominciato a avere un po' di problemi a livello dello stomaco, dell'intestino, probabilmente legati a questo, e ha dato sui siti, ha digitato i sintomi e chiaramente è venuto fuori da qualunque. Logicamente poi uno si ferma sulle cose più gravi, da lì poi ha creato ulteriore ansia, per cui è arrivato... È peggiorata la situazione. Certamente. Tra l'altro sul web è anche possibile trovare pareri qualificati, informazioni preziose, però non è facile distinguere poi dal marasma di consigli improvvisati. Certamente, però comunque ci sono i siti istituzionali, dei ministeri, delle ASL, e questi sono sicuramente delle fonti più attivibili. Chiarissimo. Dicevamo, stile di vita, alimentazione, ma anche esercizio fisico. Sicuramente lo sport è amico di chi vive bene o di chi vuole vivere bene. Questa sera ci spiegherà magari come affrontare anche il mondo dello sport il nostro personal trainer Roberto Eusebio. Buonasera. 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 generale via, di stile di vita generale a 360 gradi. Spesso il personal tenere non allena l'agonista, quindi chi affronta lo sport di modo... No, assolutamente, no, no, guardi, personalmente io mi definisco colui, mi piace fare questo tipo di metafora, ma che poi nella realtà aiuta le persone a ritrovare un corretto equilibrio col proprio corpo, che è una cosa importantissima. Quando si parla di salute e benessere bisogna parlarne a 360 gradi, quindi una componente essenziale per stare bene è stare bene con noi stessi. La mente è fondamentale, è uno dei quattro requisiti che ritengo fondamentali per la buona riuscita di programma. Quindi la testa in primis. Uno schema alimentare corretto, la nutrizione alla base, il dottore ha detto prima il 50%, ma io forse dico che l'alimentazione conta il 70%, perché non serve fare attività fisica assieme ai malnutriti, anzi, potrebbe diventare più deleterio. E sicuramente l'allenamento corretto, perché non a tutti va bene un certo tipo di allenamento piuttosto che un altro, a seconda della tipologia di persona che abbiamo di fronte. Anche il tipo di attività fisica è cambiata, fino a metà anni 90, boom delle palestre, palestre ogni dove, palestre piene, e poi piano piano si è riscoperta magari un'attività anche all'aperto, oppure forme di attività fisica un po' differenti come lo yoga, il pilates, da affiancare a un'attività tradizionale. Sono tutte attività atte a migliorare un sistema generale psicofisico, quindi atte ad insegnare e a captare gli stimoli che arrivano dal corpo. Questo qui è l'essenziale, questa è l'essenza dell'attività fisica. Non è l'esercizio fine a se stesso, ma è imparare a conoscerci, ok? Questo qui è fondamentale. È fondamentale, le dice.